amici di milan.soccer benvenuti a questo nuovo appuntamento dedicato all'informazione rossonera prima di cominciare come sempre vi ricordo di mettere un bel like a questo video un pollicione un gradimento per il lavoro che facciamo con voi per voi e dunque grazie a tutti coloro che lo faranno e ancora qui sotto un po più in basso c'è scritto da qualche parte iscriviti fatelo e gratuito per noi è qualcosa di davvero importante se volete poi essere qualcosa di più di semplici spettatori vi invito a guardare il sito www.milan.soccer dunque che il video abbia inizio e beh sì siamo al giorno forse più importante del mese perché dico questo perché siamo ad un bivio da una parte ieri il sorteggio di europa league e dall'altra fra qualche ora la partita con l'atalanta un po il destino del milan in questo snodo inizia a delinearsi d'altro canto la stagione non è più così lunga la partita con lo slavia praga intanto vediamo di conoscere un po lo slavia praga innanzitutto le partite saranno la prima il giorno 7 marzo in casa quindi milan slavia praga e la settimana successiva il 14 slavia praga milan nello sesto stadio che ha visto la finale dell'anno scorso della conference league è un club che viene definito ostico ed imprevedibile quindi si è andata bene perché abbiamo evitato liverpool e bayern leverkusen ma è un club appunto definito ostico ed imprevedibile capace di dar fastidio a molti nel 2019 tra le altre cose ha centrato una storica qualificazione ai quarti di europa league eliminando il siviglia di simon kier negli ultimi cinque anni ha vinto tre volte il campionato cieco in questo momento si trova al secondo posto alle spalle dello sparta praga che incontrerà l'atalanta a meno quattro punti nel 2019 dicevo e 20 19 20 ha partecipato ai gironi di champions league dove ha incontrato l'inter l'inter in quella circostanza uno dei due punti l'ha perso o meglio nella partita di andata in casa la il risultato è stato di uno a uno chi è che si ricorda la famosa telecronaca di adani imparzialissima telecronaca di adani comunque quest'anno eh l'oslavia praga ha rifilato due reti all'europa alla roma in europa league e come detto attualmente è seconda in classifica questo diciamo per fare una piccola fotografia ormai si va avanti si va avanti e dunque è sempre più complicato trovare squadre cosiddette una volta si diceva squadre materasso no adesso ci sono squadre che fanno vogliono e pretendono un ruolo e magari sconfiggere come è successo nella festa di ren una squadra storica una squadra che comunque rappresenta la nobiltà del calcio europeo e allora bisogna stare attenti proprio a questo ora la domanda che di solito faccio è avete visto la copertina eh sì perché c'è qualcosa che dobbiamo spiegare e che ci è stato spiegato e dunque io personalmente condivido questa posizione fatemi sapere nei commenti voi cosa ne pensate fatemi anche sapere cosa ne pensate così imparzialmente della della dello slavia praga ma arriviamo a quella alla questione di copertina eh Rocco commisso e ci risulta anche Gerry Cardinale iniziano ad infastidirsi rispetto un po' a quella che è la situazione della Serie A noi sappiamo che il Milan ma anche l'Inter e la Juventus sono andate in minoranza nella riduzione dei posti da 20 a 18 ma non è quello che preoccupa quanto piuttosto la lo stesso trattamento che ricevono le squadre che hanno i conti a posto rispetto alle squadre che i conti a posto non ce l'hanno eh stamattina è uscita così ma quasi con importanza inferiore rispetto ai rapper che siedono sugli spalti di San Siro eh un report fatto dalla gazzetta dello sport in cui si dice che la Serie A ha perso altri 427 milioni gli stipendi diventano insostenibili e dunque la morsa del debito grava sul campionato di Serie A in particolare nell'analisi dei bilanci di tutte le squadre Juve Inter Roma questo è il podio delle perdite invece il Milan ha messo lì piccolino piccolino è un club virtuoso e dunque facendo questa classifica al contrario rispetto a quella che è la classifica attuale all'ultimo posto siedono le prime due l'Inter e la Juventus il Milan come al solito non parla il Milan non dà nessuna comunicazione non dà segni di vita come ormai siamo abituati mentre esplode commisso e diciamo che si porta dietro anche il Milan perché quando cita le squadre virtuose e le prime squadre virtuose in primis c'è il Milan anche la Fiorentina è chiaro che c'è un una volontà di agire con un regolamento che anche all'interno della stessa Serie A possa essere simile a quello del fair play finanziario voluto dalla UEFA ora l'applicazione del fair play finanziario a me sembra abbastanza come dire di parte e comunque non omogenea però perlomeno stabilisce delle regole in questo caso dice commisso dal mio arrivo a Firenze ho ribadito che mai avrei fatto promesse che non avrei potuto mantenere e allo stesso modo detto sin da subito che la Fiorentina sotto la mia proprietà non avrebbe mai corso il rischio di fallire e così è e così sarà sono anni che chiediamo trasparenza e regole uguale per tutti ma quasi nulla è cambiato e ci troviamo a dover competere con club indebitati fino al collo che agiscono come se nulla fosse ha perfettamente ragione perché se non si stabiliscono delle regole e non si stabiliscono delle regole che impediscano debiti record pur di poter arrivare a vincere una competizione la competizione per definizione non è più una competizione leale e così il pensiero di commisso arriva fino a noi e quindi inizia a crearsi una fronda che chiede e che chiederà speriamo al più presto vada via anche gravina perché non so fino a che punto le cose si muovono agevolmente quando diciamo così quando sono state proposte a lui sono state sempre delle gran lungaggini quindi bisogna vecchiare mi permette il termine quindi fare cose più agevoli quindi si crea questo gruppo che dà evidentemente delle regole che darà delle regole e che dunque ai club virtuosi e c'è quindi anche un merito sportivo nell'esserlo perché se vogliamo dare una dimostrazione di quello che è il senso dello sport anche questo conta mentre quando sosteniamo ancora squadre indebitate fino al collo e come se nulla fosse l'importante segnare secondo me proprio è l'antitesi del senso dello sport va bene è tutto per adesso ci sentiamo più tardi ciao ciao Grazie a tutti.